Finalmente sono giunto alle cave e con immenso piacere potrò lanciare la massima del giorno che in questo caso dopo lunghe riflessioni è se da solo vuoi raidare in campana devi stare per non farti male in arrivo verso colle pedrino per questo giro sul monte linzone in solitaria nessuno mi ha seguito completamente libero siamo arrivati parto per questa salita verso il monte linzone eccomi a colle pedrino dopo un giusto tratto di riscaldamento fantastico il suolo ormai alto sono caldo ecco il crinale che conduce al monte linzone giornata stupenda l'aria comincia a farsi frizzante ora devo dirigermi lungo questo crinale non ci sono più grossi dislivelli ottimo seguitemi superlativo ecco la croce del linzone là in fondo fantastico l'ultimo sport e ho robbie alle mie spalle bello ecco il sentiero di traverso che scende dal roccolo ora lo prendo è molto molto pendente estrema cautela eccomi al roccoletto mega via mezzo ostico molto sassoso con questi tornantini al limite mega 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 Eccola Attenzione che questo è Iperpendente In questi tratti la bici Non è possibile fermarla Bisogna solo pilotarla La pendenza Il fondo è tale per cui non si può fermare La bicicletta Eeeh Eeeh Wow 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 Va 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 Wow 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 prenderla direttissima va 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 guardare avanti va va chi la ferma più no di qua no davvero il canalino bene ora come si può chiaramente notare ho spostato la telecamera sulla fettorina senza gimbal per testare la stabilizzazione di questa nuova gopro tra poco dovrai trovare la deviazione verso sinistra per farle pedrino è stupendo eccoci a roccolo bello bello e adesso si scende fluidissimo attenzione pericolo attenzione attenzione a pochi centimetri dall'auto è una cosa stratosferica fine uh uh ut ut ut